Allora, oggi iniziamo con la pittura, quindi se cortesemente potete cominciare a preparare i tre colori, adesso vi spiego sempre come... Non ti preoccupare Stefania, non ti preoccupare. Allora, iniziamo con la parte dell'acquarello, anche oggi, quindi faremo... Abbiamo fatto il primo incontro, la prima parte teorica e poi artistica, la seconda e il terzo incontro facciamo prima la parte artistica, poi la parte teorica e poi l'ultimo incontro faremo di nuovo teorico, poi artistico, giusto per dare un ritmo un po' particolare. Saranno necessari i tre colori primari, il blu di Prussia, no ultramare, il blu di Prussia... Mettiti là, Mocca, mettiti là! Il rosso dell'equilibrio, che è un rosso che si fa con una proporzione tra carminio e vermiglio, dove il vermiglio, diciamo, è più presente, meno carminio sostanzialmente, e poi lavoreremo con il giallo-limone. Sono i tre colori primari sostanzialmente. Vi faccio vedere intanto com'è andata ieri, che abbiamo lavorato nell'emisfero sud e quindi è arrivata totalmente la nostra bellissima atmosfera... non si vede niente... è l'atmosfera d'estate, sono apparse delle farfalle, come potete vedere, nell'atmosfera luminosa, diurna. E invece, qua abbiamo l'atmosfera invernale. Riprendiamo quello l'ultimo? Sì, sì, sì. Riprendiamo l'ultimo? Esatto, stiamo lavorando sempre sullo stesso disegno, in realtà, che voi potete fare anche varie volte durante la settimana, e però arriviamo sempre allo stesso punto, più o meno, dove abbiamo creato nel primo incontro i cristalli sotto la terra che erano legati alla formazione, al processo cristallino, al processo ossalino. Abbiamo creato una terra, una terra dove puoi appoggiare i piedi, in un certo senso, e poi abbiamo creato tutta un'atmosfera, con il blu di Prussia, un'atmosfera a mandorla, dando un piccolo accenno di giallo, qua dentro, che poteva essere anche solamente un po' d'acqua, in un senso, sarà molto simbolico, per iniziare a covare qualcosa, a covare una presenza. Quando siete pronte per iniziare, io metto poi vista blante, così potete vedere nella registrazione grandi linee. e se non prendo però il pennello, sarà difficile. Grazie. 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 iniziare, penso che siete bene o male tutte pronte, vedo della gente che manca, quindi aspettate, c'è Brigitte, Maria che adesso arriveranno, eccoli qua, ok. Allora andiamo a iniziare con il rosso, con il rosso equilibrio, il rosso equilibrio cominciamo a lavorarlo, non deve essere particolarmente denso, inizieremo a lavorare a partire dalla terra, senza entrare nella terra, a partire dalla terra qua sopra, appoggiato, inizieremo a lavorare, però prima di lavorare sopra il foglio, voglio farvi capire una cosa, perché essendo a distanza diventa molto molto difficile. Noi abbiamo più o meno, più o meno questo, abbiamo una sorta di mandorla fatta così, poi qua sotto c'è la terra, poi la nostra mandorla qua è sempre più blu, però vabbè, adesso non importa. Allora, in questo spazio che abbiamo lasciato bianco, che abbiamo detto è lo spazio dove deve nascere la figura, l'immaginazione di Natale sostanzialmente, che è la Vergine con il Bambino Solare, dobbiamo in un certo senso visualizzare un pochino prima di farlo, dove sta il volto della Madonna e il volto del bambino, perché in questo modo noi potremo lavorare con queste macchie di colore oggi, perché oggi in realtà lavoreremo su, diciamo nella terza settimana, quando si celebra l'Avvento con i bambini, la terza settimana è l'arrivo dell'angelo bianco e l'angelo bianco porta con sé quello che è il regno animale, quindi cominciano ad apparire nel presepe le pecorelle, le coccinelle, il bue, l'asinello, cioè tutti gli animaletti, tutti gli animali che uno può mettere, no? Noi chiaramente siamo in estate, quindi c'è un frullicchio di insetti ovunque, per quello che abbiamo fatto poi nell'atmosfera di Natale dell'emisfero sud, abbiamo fatto le farfalle, come rappresentate di questo mondo degli insetti. Però noi sappiamo che nell'inverno, soprattutto poi nel nord Italia, perché nel nord Italia c'è un clima ancora più freddo, più secco in un certo senso, sappiamo che di animali e soprattutto di insetti non è che ce ne sono così tanti, in realtà loro entrano nelle targo, ne abbiamo parlato a primo incontro. Quindi non possiamo rappresentare le forme degli animali, ma attraverso il colore rappresenteremo non tanto il mondo animale quanto le forze lunari, che poi le forze lunari sono quelli che danno le forme sostanzialmente. Se vi ricordate l'ultima volta, perdone, il primo incontro, vi avevo detto che nell'emisfero nord, dove adesso è inverno, sostanzialmente i tre processi alchemici sono separati, quindi sotto terra abbiamo il processo salino, poi nell'atmosfera, soprattutto nell'acqua, c'è il processo mercuriale, del mercurio, e il processo sulfurico è quello più lontano, diciamo è proiettato nel cosmo, perché il processo sulfurico ha terminato, diciamo, con la maturazione dei frutti, in un certo senso, che è stata alla fine dell'estate. In questa separazione, diciamo, dei tre processi alchemici, possiamo vedere che la terra in un certo senso accoglie il processo salino, che è esattamente il processo tipico della terra. Se dobbiamo vedere qual è il processo della terra, lì dobbiamo trovare il processo del sale, e nell'inverno questo processo salino è praticamente sottoterra ed è unico, da solo. Dall'altra parte c'è qualcos'altro che si può sottolineare nel guardare la crosta terrestre, e sono proprio le forze lunari. Noi sappiamo che dalla evoluzione della terra a un certo punto, prima c'è stata una separazione della terra con il sole, poi questo non è stato sufficiente, perché diciamo le forme si stavano irrigidendo, mummificando troppo, e quindi è stata necessaria una separazione tra la terra e la luna. E noi sappiamo che grazie a questa separazione, parte degli esseri spirituali, lunari, dalla luna, in un certo senso, hanno continuato ad avere il loro influsso. Però, nello stesso tempo, delle forze lunari sono rimaste sulla terra, cioè a parte la separazione, c'è proprio un'influenza lunare che c'è e che si risveglia, tra virgolette, si potrebbe dire proprio durante l'inverno. Quindi quello che andremo a fare noi attraverso la macchia del colore, saranno macchie colorate che richiamano poco a poco un arcobaleno di colori, in un certo senso, vogliono proprio richiamare queste forze lunari della terra che in questo inverno, che durante l'inverno cominciano a sentirsi e a sorgere. Quindi, con il rosso, cosa dovremmo fare? Intanto, prima di tutto, visualizzare, come ho detto prima, dove sta... Consuelo, scusa, mi ti perdiamo ogni tanto perché mi sa che... Ciao Elisa, hai il microfono aperto, quindi vediamo Elisa. Glielo spento, glielo spento, tranquilla. Sì, perché c'ha il microfono come dire, così collegato. Ok, adesso l'ho spenti così non dovrebbero esserci interferente. Grazie Alessia. Allora, visualizziamo da che parte vogliamo vedere la Madonna col bambino, sostanzialmente, e allora avremo due possibilità. Diciamo, o la Madonna col bambino, la Madonna sta a sinistra e il bambino sta a destra. Questo non lo dobbiamo fare, questo è un esempio per farvi vedere come procedere con il colore. Oppure, al contrario, il bambino sta a sinistra e la Vergine sta a destra. Questo è un volto enorme della Vergine. Però per intenderci, no, che sono due possibilità. Seconda di come noi lo visualizziamo, questo è libero, nel senso ognuno può farlo come vuole. Allora, il nostro procedere con il colore sarà diverso. Ok, qua abbiamo i due esempi. In questo caso il rosso partirà dalla terra, poi lo farò con il pennello che si vedrà meglio, però parte dalla terra e come una sorta di coppa, in un certo senso, sale verso sinistra. Ok? Poi salirà anche un po' verso destra, ma molto meno. Ok? In questo modo. Chiaro che se la Vergine invece la visualizziamo alla nostra destra, sarà al contrario, cioè la nostra coppa di rosso, che in un certo senso cominceremo a dipingere, andrà verso destra e poco verso sinistra. Ok? Questo è per capire come salire con il colore. Ora, voi qui avete sicuramente messo del giallo l'ultima volta, quindi qua si creerà già una prima differenza, un primo arcobaleno, che sarà l'aranciato, l'arancia, l'arancione. E l'importante è che a parte l'arancione che si formerà qua, saliremo un pochino più su con il rosso. Ok? Perché dopo poco a poco andiamo a creare delle altre tonalità di colore. In questo caso io vi consiglio di non andare giù nella terra, di stare sulla terra, per appoggiarvi, nel senso di non lasciare del vuoto, sennò sembra che dovete appoggiarvi sulla terra, avere proprio la sensazione solida di stare con i piedi per terra. Ok? Adesso vediamo, dopo aver fatto questa spiegazione per capire da che parte andare su, io in questo caso per me il volto sarà... accidenti. Il volto sarà a sinistra della Vergine, quindi io salirò verso la sinistra e voi salirete a seconda di dove sta il volto. Non so se è chiaro, però mi sembra di aver spiegato come mi dite, eh. Tutto chiaro? Il pennello dicevi lo stesso dell'altra volta o quello più piccolo? No, possiamo usare ancora oggi, visto che dobbiamo fare questa sorta di arcobaleno, possiamo ancora usare questo qua, diciamo. Poi la prossima volta che entreremo nel regno umano e quindi dovremo fare il volto e quindi fare un ovalo, una macchia ovalica, allora lì vi consiglio di usare una sorta di pennello come questo, che è un pennello proprio classico d'acquarello abbastanza piccolino, ok? Andiamo se c'è... Ok, andiamo con il rosso. In questo caso la diluizione deve essere... non deve essere troppo, troppo forte. Maria è uscita, adesso rientra. Ok. E cominciamo a lavorarlo. Cercate di appoggiare i piedi il più possibile. Il colore dell'equilibrio, se viene bene, è un colore che rapisce l'attenzione. Questa macchia di colore che noi poco a poco coloreremo, sappiamo già che farà parte del manto della vergine. Sostanzialmente stiamo lavorando sul manto della vergine. Quando arriviamo su, dobbiamo sempre stare attenti a dove sarà il volto. che ancora non stiamo facendo. Quindi, quando arriviamo su, possiamo diluire leggermente il colore, in modo che non sia così intenso, scaricarlo un po' nell'acqua e portare su. fatto questo, abbiamo costruito una macchia rossa sostanzialmente, probabilmente chi ha usato un buon giallo la volta scorsa avrà una parte di questa macchia aranciata, arancione, o leggermente rosso gialla. Puliamo molto bene il pennello e poi cambieremo colore. Andremo con il blu di Prussia. Vi aspetto, come sempre, in modo che vi metto a vista galletta. Mi dite voi quando siete pronti. Nel frattempo lo avvicino perché voi possiate vedere un po'. Ok, questa sarebbe più o meno. Vedete, è appoggiato sulla terra, però non la penetra. E la macchia di colore chiaramente non è uniforme, non deve esserlo, perché se vogliamo creare delle tonalità di arcovaleno, ci devono essere delle macchie più rosse, delle macchie più chiare. Qua in alto, come vedete, è più tenue il colore. Quindi, vedere un po' come... Ok, vediamo un po'. Riuscite a vederlo, sì, no? Ok. Mentre voi terminate, quando poi avete terminato, fate capire. Io sono adesso con vista galleria, quindi vi vedo. Adesso, cioè, con calma, il passo successivo ci consente, da un lato, di seccare un po' il rosso, perché altrimenti, se noi adesso andiamo a dipingere con un altro colore, tutto verrà mescolato tra questi due colori e poi sostanzialmente precipiterà giù il colore. Invece, quello che vogliamo fare è che si secchi un po' il colore e quindi, nel frattempo, ci dedicheremo a un'altra parte del foglio. Quest'altra parte del foglio è esattamente il nostro cielo, no? Questo cielo che alcuni di voi l'hanno fatto bello profondo, che è perfetto, perché deve essere un cielo notturno. E vi voglio ricordare alla mente, vi voglio portare alla mente la Madonna Sistina di Raffaello. La Madonna Sistina ha tanti particolari, molto, molto interessanti. Adesso voglio vedere se riesco a trovare, per compartirla un momento. Eccola qua. Per condividerla, non compartirla. Ok, vediamo questa. Ok, vediamo se me la fa aprire, però. Ok. Allora, la Madonna Sistina ha molti particolari. Possiamo vedere tante, leggere tante cose interessanti. Uno sulla quale voglio che oggi ci soffermiamo. Adesso ve la riporto. Eccola qua. Non si può vedere tutta, però... è il particolare dello sfondo. A parte questi tendaggi verdi, non verde, sto prendo, tra parentesi. Però a parte il tendaggio verde, voglio che voi vi concentriate su quello che c'è qua dietro. Qua dietro ci sono come dei piccoli volti. Molte sono le interpretazioni, i cherubilini. Steiner parla di questi volti a un certo punto in una maniera molto particolare. Ne parla come le anime dei non nati. Cioè, sostanzialmente, le individualità che si incarneranno. E allora, pensando un poco a questo concetto, siamo in un momento dell'anno in cui, adesso c'è anche Anna, che bello, aspetta che... Siamo in un... grazie. Siamo in un momento dell'anno in cui, da dicembre a marzo, si apre, diciamo, la... chiamiamola così, la porta della nascita, in un certo senso, nella sfera lunare. E praticamente la maggior parte dell'individualità che si incarnerà nel prossimo anno, fino a poco più dell'anno successivo, contando sempre, possono partire nove mesi, più o meno, a seconda... da adesso, in poi, in generale. Le persone che nasceranno da quest'anno a metà del prossimo, più o meno, un terzo del prossimo, sono le individualità che cominceranno e hanno l'opportunità, diciamo, di stare in questa finestra che si apre. Proprio da dicembre a marzo, questo è un... qualcosa di molto antico, in realtà, sempre... ognuno di noi, a prescindere da quando è nato, se è nato in gennaio, in dicembre, in ottobre, non importa, ha aspettato più o meno il... nel suo momento, nella sfera lunare, e ha cominciato a prendere realmente i primi contatti da dicembre a marzo, in questa ventana, in questa finestra che si sta aprendo. Quindi, questo vuol dire che in questo momento, che è già dicembre, fino a marzo, nella sfera lunare, dal punto di vista del mondo spirituale, nella sfera lunare, ci sono queste individualità che poi si incarneranno, quest'anno, fino a poco più dell'anno prossimo, pochi mesi, diciamo. E allora, pensando un po' con devozione a queste anime che dovranno, in certo modo, venire giù, noi faremo, pensando proprio a loro, faremo delle piccole semisfere, un po' come nella Madonna Sistina, in quella volta celeste che circonda la mandorla. Ok? Quindi, con il blu di Prussia, andremo a fare un movimento che è questo, adesso lo faccio con il gessetto, così, se mai si vede, un movimento che con il pennello è una semisfera, di tante, pensando proprio tanti piccoli volti, che sarà sempre più leggero, adesso con il gessetto non riesco a farlo del tutto, che sarà sempre più leggero, sempre più leggero, più entra dentro, diciamo, al blu, e rappresentando proprio, pensando, e dando, cercando di inviare soprattutto pensieri di coraggio, permeati di coraggio, infondere forza, perché incarnarsi in questi periodi è veramente molto difficile, quindi cerchiamo di mandargli dei messaggi a queste individualità che ne abbiamo bisogno. Ok, non so se è chiaro questa, sì, mi sembra di sì. Allora, andiamo con il blu. vi consiglio di andare dove partiamo, vi consiglio di stare, noi abbiamo fatto l'ultima volta, abbiamo fatto prima della mandorla, abbiamo fatto una parte più chiara, che era l'ultima parte, diciamo, aspetta che vi porto qua il foglio, eccoci qua, abbiamo fatto questa parte, diciamo, che era l'ultima pennellata scarica di colore, solo acqua, che serviva un po' a stemperare l'azzurro. Io vi consiglio di fare i volti nel blu profondo, non tanto in questa, in questa sfumatura, perché qui verrà un, diciamo, volti più forti, più carichi, che guardano la scena, e poi dietro sempre meno carichi, meno carichi, fino a quasi scomparire nel blu, ok? E questa parte invece la lasciamo tranquilla. Due, tre file di volti, non di più, cioè non facciamo un assemblamento, un assemblamento di gente nel cielo. Facciamo, giusto per, possono essere anche meno, giusto per caratterizzarli, possono stare qui in alto, possono circondare la mandorla, questo è a vostro gusto, siete liberi, nel senso, è la vostra partecipazione creativa, vedere quanti, come, l'importante è capire come li stiamo facendo, no? Chiamiamo queste individualità a dire, non vi preoccupate, più siamo meglio è. l'idea chiaramente è un po' come la bambola Waldorf, non è mai quella di fare qualcosa di realistico, quindi non sarà un volto con gli occhi, eccetera, eccetera, la semisfera sarà quella che ci porterà un po' l'idea di questi volti che stanno circondando la mandorla sacra. se ve la faccio vedere da vicino così anche voi non avete tanta non abbiate timore. Allora, non so se si vede perché ho la luce un po' scema, ma vedete che qua c'è questo gesto del pennello che è un semicircolo che mi permette di fare queste semisfere poi scarico un pochettino non so se riuscite a vedere non si vedono chiaramente senza la luce si vedono di più scarico un pochettino il colore Consuelo, sono Sara, ciao, sono arrivata circa 10 minuti fa se è possibile il rosso per fare la figura Sì, allora mentre voi adesso poi io sono in verticale quindi mi goccelleranno di brutto però non importa mentre voi continuate a fare questi volti con Sara ripeto il discorso del rosso allora la cosa importante prima di tutto è Sara visualizzare da che parte sarà la versione e il bambino ok quindi c'è non devi farlo però sei tu che devi guardare la tua mandorla e decidere da che parte saranno che chiaramente saranno al centro però bisogna capire se per esempio la vergine sarà a sinistra e il bambino a destra o viceversa il bambino a destra e la vergine a sinistra non devi fare questi ovoli perché questi ovoli li faremo la volta prossima per finire terminare e dare la forma proprio però la cosa importante è capire dov'è la Madonna sostanzialmente perché con il rosso partiremo toccando la terra ma non penetrandola quindi sulla terra piedi per terra partiremo con il rosso e andremo dalla parte dove sarà il volto della Madonna quindi se a sinistra saliremo a sinistra se a destra saliremo a destra e in questo modo cominceremo a creare attraverso una macchia di colore che deve essere proprio una macchia con vari momenti adesso ti faccio vedere qui ecco vedi appoggiata per terra ci sono delle delle parti più scure delle parti più chiare in questo caso io vedo la Madonna a sinistra quindi questa parte sale un pochino più a sinistra poi sale anche a destra e la parte finale togliamo un po' di colore quindi usiamo solamente diciamo il pannello scarico con un pochino d'acqua per creare una sfumatura un leggermente più chiara qui in teoria noi abbiamo messo del giallo quindi se tutto va bene qua si è creato un rosso aranciato mentre qui si creerà proprio un rosso dell'equilibrio come l'abbiamo fatto noi e questo sarà importante perché dopo noi aggiungeremo altri colori per creare una sorta di acco baleno proprio in un certo senso quello che stiamo creando sarà il manto della vergine dove accoglierà questa figura però lo stiamo ricordando adesso come diciamo queste forze lunari che sono dentro la terra durante l'inverno e che dal basso vanno in un certo senso ci 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 tengono grazie alla forza di gravità ci ci tengono lì ci tengono a terra cosa che faceva parte di un passato terrorizzandoci ma che adesso comunque c'è tuttora ma fa parte insomma della è qualcosa di sano non è sbagliato fatta questa parte fatta questa parte puoi anche iniziare con i volti dei cherubini farai queste sferette che si vedranno e non si vedranno sarà una cosa molto leggera ok ma l'idea è proprio il rosso misto che abbiamo usato l'altra volta sì esatto che chiamiamo rosso dell'equilibrio sperando che sia che sia equilibrato però questo è un esercizio grazie mille tali che figurati sì non saranno probabilmente non saranno molto evidenti dopo casomai possiamo ritornare sopra una volta che abbiamo finito di lavorare un po' la manta però l'importante è proprio l'attenzione l'atteggiamento meditativo con la quale stiamo procedendo facendo questi piccoli volti che si affacciano sulla mandorla quando siete pronti scusa Consuelo sì dimmi Elisa le i visetti qua di di quelli che si devono incarnare mi scompaiono sì perché scompaiono non si vogliono incarnare no è normale è che non sono ancora incarnati poveretti ah ok perché si dissolvono sì si dissolvono perché comunque noi abbiamo lavorato se abbiamo lavorato bene abbiamo lavorato facendo un bel manto cioè una bella notte intensa e quindi è normale che se andiamo con una pennellata l'idea c'è ma scompare praticamente subito quindi dopo casomai quando abbiamo finito un po' tutto il processo possiamo ritornare nei nostri visi e dargli un colpetto in più ma non è così necessario nel senso che l'importante è che noi abbiamo fatto il gesto nel processo pittorico con l'intenzione proprio di rivolgerci a questa individualità che si devono incarnare ok così come accompagniamo i nostri morti dobbiamo accompagnare i nostri non nati ok è la stessa cosa dimentichiamo sempre l'innatalità da una parte ok quando siete pronte che avete già anche fatto tutti questi visi cosa facciamo adesso i visi dove nella parte del blu come diciamo era esatto nella parte del blu che come vedete adesso io poi purtroppo tenendole in verticale si vedono queste gocce che vanno verso la gravità e vabbè è il rischio di lavorare in verticale con l'acquarello però se voi guardate ci sono queste semisfere si vedono poco come diceva anche Elisa giustamente si vedono poco l'importante è il gesto una volta che abbiamo finito questo mi fate un segnale in modo che possiamo tornare a lavorare il manto cioè far venire fuori diciamo queste immagini dal blu però non troppo non devi farle venire fuori troppo perché comunque sono anime che non si stanno incarnando si generano quindi e farle venire fuori con sempre il blu di Prussia si togliendo colore eh no in questo caso gliel'abbiamo messo non toglierlo gliel'abbiamo messo e basta quindi abbiamo fatto proprio la pennellata ah ok vado a prendere una cosa da farvi vedere non guardate tanto la tecnica perché avevo solamente i colori di mia figlia mi trovavo incinta lì ma non avevo ancora non avevo proprio portato di mano né i miei colori né niente quindi con i colori proprio quelli da bambino del filo ho fatto ho seguito le istruzioni che Rudolf Steiner poi l'altra più piccola ci ha messo mani e è diventata creativa però ho lavorato sulle indicazioni di Rudolf Steiner questa immagine che è un'immagine se volete vederlo un po' più su un po' più su eccola qua la vedete queste sono le indicazioni che ha dato Rudolf Steiner per fare questa immagine della Sofia che è un'immagine della Vergine col bambino e una delle cose che voglio che voi vediate è che c'è una mezzaluna che è una mezzaluna che è il trono sostanzialmente della Vergine e in questa mezzaluna poi ci sarebbe questo volto che è la testa del Battista decapitato è molto è molto misteriosa questa sarebbe da vedete poi che il manto della Vergine che parte rosso poi si trasforma adesso essendo un foglio giallo qui diventa più un verde che un blu ma questo dovrebbe essere proprio un blu in un certo senso che avvolge poi le spalle della Vergine e del bambino poi ci sono una serie di cose altre strane che adesso non guardiamo però quello che voglio che voi prendiate attenzione è questa parte che è la parte dove stiamo lavorando noi con il manto della Vergine stiamo lavorando la parte lunare le forze lunare della Terra che ancora ci sono che non sono staccate sono le poche forze rimaste ancora e che in qualche modo in questo inverno voi cominciate a sentire in forma più prepotente quindi in un certo senso può anche uscire una forma soprattutto adesso che lavoreremo di nuovo con il blu leggermente a mezzaluna se voi volete io non non vi sto dicendo di farlo però vi sto dicendo che se voi sentite questa forma della mezzaluna che sorregge poi la figura della Vergine col bambino la potete fare tranquillamente quindi adesso lavoreremo sempre a partire da qui da questo da questo centro sostanzialmente con il blu di Prussia e cominceremo a partire in modo che quando dobbiamo salire soprattutto nella parte dove è più rosso dobbiamo cercare di avere un blu di Prussia pulito quindi iniziamo lavorando il blu di Prussia qua nella parte diciamo di un terzo inferiore della Madonna poi puliamo bene il pennello prendiamo di nuovo del Prussia e partiamo direttamente da sopra perché altrimenti non verrà fuori un morado ma verrà fuori un viola ma verrà fuori una terra e noi non vogliamo una terra adesso vogliamo delle tonalità di viola sono molto difficili una cosa difficile da lavorare è il viola ve lo dico è molto difficile lavorare il viola ci sono due tipi di viola che si possono che si possono realizzare ognuno di voi poi adesso vedrà se un viola più tendente al rosso o un viola più tendente al blu quindi adesso io lavorerò con chiaramente in questo caso se sentite il richiamo di una forma in un certo senso a mezzaluna la potete fare grazie a tutti Allora, io in questo caso già ho il pennello sporco perché già ho formato dei viola. Quindi in questo caso devo fermarmi e ritornare a prendere l'azzurro e il blu per partire un pochino sopra al viola. Allora, io in questo caso ho il pennello sporco. Possiamo anche aspettare qualche minuto per poter seccare e farlo ancora più carico l'azzurro e creare una tonalità di viola che ci piaccia in un certo senso. A mio avviso il viola è uno dei colori più difficili. Col blu di Prussia, vero? Grazie. 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 settimana che stiamo iniziando è difficile, è ancora più difficile delle altre settimane impegnativo e poi il viola c'è proprio un colore molto molto difficile poi ti porta una partecipazione particolare emotiva assolutamente sì e noi anche questa è una cosa importante da vedere, siamo partiti con il rosso sotto se noi facciamo l'esperienza per esempio in questa settimana volete fare l'esperienza su un foglio solamente di questa parte giusto per lavorare un po' il colore provate a partire dal blu e poi sopra mettete il rosso vedrete che l'esperienza dell'anima è totalmente distinta quindi anche questo che cosa sto usando prima è il rosso che è lo splendore della oddio il rosso è lo splendore della vita questo momento di mancamento è sotto e poi c'è il blu che è lo splendore dell'anima ok? quindi abbiamo questo questo tipo di di accoppiamento diventa molto diverso se io metto sotto lo splendore dell'anima e sopra lo splendore della vita ok? poi non ci fermeremo perché gli daremo anche una botticella con lo splendore della luce mettendogli un po' di giallo chiaramente non nella base lo faremo in alto quindi vedremo che è molto forte perché in realtà lavoriamo con dei colori che è molto importante avere delle dimensioni difficoltà in questo esercizio è molto facile, non è che uno è normale, quindi non sentitevi frustrate o che è abbastanza difficile in generale come esercizio perché si sta lavorando con dei colori molto particolari. Consuelo, io avevo il rosso già completamente asciutto, quando ho messo il blu non è che si è effettivamente formato niente di particolare perché era già molto asciutto, penso, lo lascio così o provo? Eh no, e questo è il punto, vedi, è come il mio probabilmente, che sembra una velatura sopra un rosso, e questa è proprio la caratteristica di lavorare sull'asciutto, che è una cosa molto difficile, l'anima non è che c'è tutta questa soddisfazione, il lavoro sull'asciutto non è una grande soddisfazione per l'anima senziente soprattutto, però è una grande soddisfazione per l'anima cosciente, perché lavorando sull'asciutto noi ci svegliamo, diventiamo più attivi, più coscienti e è molto più difficile fare qualcosa di bello e piacevole, quindi l'anima senziente normalmente in questo dice, ma se noi facciamo la stessa cosa sul bagnato viene un bellissimo viola, facile da tirar fuori. Se io invece lavoro, come ho fatto adesso, aspettando che si secchie un po', lavoro con questa velatura, che è una velatura che, per esempio nel mio caso, questa velatura è proprio come se qualcuno avesse messo un velo di seta blu sul rosso, quindi appare qualcosa che è viola, che però sostanzialmente dietro al rosso, poi a seconda della qualità del colore può essere un po' più o meno sporco, quello dipende dalla qualità del colore che usiamo, ma è proprio qui il punto, riuscire gradatamente a lavorare tappa per tappa, quindi riprendendo anche il lavoro, portando il colore sufficiente. E' interessante perché nella tecnica del foglio secco, del colore secco, in un certo senso di come stiamo lavorando noi, è molto importante che il colore sia materico, abbia sostanza, perché se non ha sostanza viene fuori questa velatura un po' così, che non ti piace. l'anima sensibilice, non mi piace, quindi bisogna riportare in un certo senso, qua l'anima vuole che noi mettiamo del blu più carico nella parte bassa e lo faremo, lo faremo, faremo un'altra stesura ancora di blu profondo e questo blu lo faremo proprio adesso, una volta che abbiamo finito di lavorarlo, farà in modo di estendersi dal cosmo entrerà dentro la figura, puliamo il pennello, dal cosmo entrerà la figura, puliamo il pennello, perché se facciamo così portiamo il viola nel cosmo e non è il caso, facciamo un po' di confusione. Quindi faremo con questa tecnica, diciamo, è proprio, a me ricorda tantissimo, ripeto, le icone russe, perché c'è questo passaggio della pazienza, del riposo, dell'attenzione, perché se non sto attento si mescola il colore e non deve farlo. Quindi quello che faremo adesso, con la blu di Prussia partiremo portando abbastanza colore in qua, puliremo bene il pennello e poi partiremo da qui. Non molto in alto, stiamo sempre parlando, diciamo, zona piedi, per intenderci. Dobbiamo dare qualcosa di solido. C'è un esercizio molto bello che si può fare e ci aiuta tantissimo a mettere i piedi per terra, che è l'esercizio della creazione del verde. Se io non metto un blu molto profondo e intenso come base della terra, si formerà un verde che è sospeso, perché il blu sotto non sarà abbastanza forte, quindi hai questa sensazione di fluttuare. Invece l'esercizio è interessante, è proprio quello di mettere abbastanza sostanza sotto i piedi per poter poi camminarci. Quindi sempre vi invito, alcuni non ne hanno bisogno, ad esempio Monica mi sembra che anche lei mette abbastanza materia nel colore, però ci sono alcune persone invece che ancora hanno una tendenza eteria nel colore, che va bene per alcune tecniche, ma in questo momento non vi aiuta. Quindi incarnatevi, incarniamoci. Incarno pure io perché c'è il colore che è un pochino... Non l'ho preparato bene e si vede, infatti mi ha lasciato questa velatura che vabbè, però... Fa parte... Quindi una volta che poi entro dove già c'è il viola, non posso uscire, nel senso che devo pulire il pennello perché altrimenti... Mi porterò qualcosa dove non devo... E qua creo un'altra tonalità ancora di colore. Devo anche fermare. Perché adesso il viola che sto creando in un certo senso nella figura è un rosso-blu-blu. Quindi avrò un altro tipo di viola. E qua... Per ora... Perché adesso la procedura è un po' diure. Per ora... Per ora... Per ora... Questa volta... Per ora... Poi vado dall'altra parte fuori, sempre con un bel blu carico e vado adesso dentro. Scusami, mi sono distratta, è blu ultramare questo? Sempre Prussia? No, no, sempre Prussia, l'ultramare non lo stiamo usando, non lo useremo. A me sembra, sembra, non so. No, no, è Prussia. No, no, il mio, il mio. Ok, questo è più o meno quello che sta succedendo, no? Vedete che qua si è creato un colore, un viola ancora diverso, che adesso è molto luce, vedete? C'è un viola ancora diverso e quello che posso fare adesso, visto che il blu è penetrato, eccetera, è poter lavorare un po' con le tonalità di viola, fare in modo che ci siano delle tonalità più o meno chiare che sorgono, vanno su o da una parte o dall'altra. Vedete, vedete? Qua si sono create, poco a poco, delle tonalità diverse di viola. Nella parte più bassa sono più oscure, qui io posso con il pennello, vedete, entrare e si vanno un po' a mescolare a quel rosso che io avevo fatto all'inizio. Vedete? Piano piano, senza invadere tutto, però salendo piano piano. Per cercare di mitigare un po' queste linee che si vedono, io per questa volta direi che le possiamo lasciare così perché in realtà possono anche fare da paesaggio in un certo senso, può essere anche visto come un paesaggio che sta giusto dietro alla figura. Quindi, però, se vi danno fastidio queste linee nette, potete sempre usare, proprio sulla confine della linea, un passaggio di acqua in modo da poter fare una sfumatura di celeste, dal blu al celeste. Questo ve lo do come possibilità, non è una cosa che dovete fare, ok? A seconda della vostra sensibilità. Ok. Grazie. Grazie. Ok, mi dite quando siete più o meno pronte. Se volete potete anche condividere, adesso ho messo vista della, vista galleria, potete anche farmi vedere i vostri lavori. Ah, wow, si vedono moltissimo nei tuoi volti. Questa è di Stefania. Sì, si vede, si vede. Alessia. Ok, molto bene, molto bene. Redmi, non so chi è. Che è, sei Licia? Ah no, Elisa! Sei entrata con un nome di Elisa. Ma no, sto facendo tutto il computer, guarda, sono... Vabbè, lasciamo per... Non so, saranno i volti che non si incarnano, che mi mandano giù resistenza. Non lo so. Aspetta, Brigitte, aspetta, aspetta, Brigitte, che non lo vedi. Ok. Belli anche tu i volti, belli. Bel contrasto, eh, con i cristalli, eh? Si vede bello il contrasto. Più scuro è la notte, più i cristalli portano questa luminosità interna, no? Ed è va bene, perché questo non si stanno formando cristalli adesso nella parte dell'emisfero nord, però quello che sì c'è sotto la crosta terrestre è proprio la luce del sole. È proprio la parte, la luce spirituale del sole che è dentro la terra. Quindi, benissimo, come tipo di contrasto. E anche lì, vedete, la quantità di cristalli, se farlo più o meno grande... Poi, dopo tutto, si equilibra. Bene, bene. Allora, io direi che adesso possiamo fare l'ultimo passaggio, che è un pochino delicato, quindi cerchiamo di farlo senza frustrazioni. Portiamo questo giallo. Allora, questo giallo dovrà andare più o meno dove noi abbiamo visualizzato lo spazio tra i volti. Cioè, non nel volto, perché sennò viene fuori il volto arancione e quindi non va bene. Però, se più o meno io ho visto che il volto tra Maria, tra la Vergine e il sole, e il bambino solare, è questo, per esempio, come le mie palmi, allora in questo spazio che c'è tra i miei palmi, lì posso accedere con un pochino di giallo. Questo giallo deve essere un giallo diluito. Non deve essere un giallo forte, deve essere un giallo diluito che scende verso quel rosato che abbiamo lasciato senza un attocco di blu. Cioè, vi faccio vedere dal mio per intenderci, dopo lo facciamo insieme. Allora, se voi vedete, adesso vediamo, speriamo che si veda, perché è tutto bianco qua. Vedete che qua c'è questo rosato, ok? Qui più o meno io vedo i volti. Il giallo lo facciamo partire più o meno qua, molto diluito, e lo facciamo andare giù. Solamente in modo da toccare leggermente questa zona rosata. Non lo facciamo scendere troppo, perché altrimenti si formeranno delle tonalità di terra, che non è quello che vogliamo fare in un certo senso. Quindi, quello che faremo è creare una sorta di arancione, giallo aranciato, che arriverà fino a una certa parte del petto e basta, ok? Questo con un tono abbastanza leggero. In questo caso, se voi volete, potete usare anche un pennellino un pochino più fine, però è uguale, nel senso, io userò quello grande. Scusami, Consuelo, posso farti una domanda? Certo. Quindi questa forma include entrambi i corpi? Eh, sì. Ah, ok. Io non l'avevo capito. No, ma va bene. Stavo solo il manto della, diciamo, della Madonna, di Maria. Questa forma, perché non dobbiamo entrare troppo con l'intelletto, questa forma... Eh, è il mio guai. ...deve essere vissuta come nella parte bassa centrale della mandorla, che va in su. Io vi ho detto, sarà poi il manto, per darvi anche un'idea, perché sennò dopo uno faceva qualsiasi tipo di forma, ok? Però l'idea era una macchia di colore con una sorta di caratteristica tendente all'arcobaleno, quindi tendente a varie tonalità di colore, dove dal basso appoggiata sulla terra, diciamo, va su, come nel manto della Madonna, nel senso che a un certo punto avvolgerà almeno il volto, perché adesso i particolari di fare le mani, il corpo, noi non facciamo questo, è una strada di caratteristica, quindi è più che altro attraverso il colore si lavora verso una forma, ok? Quindi sì, cioè, la cosa importante è che, come vedete, questa sia centrale, bene o male, lo stagio fa in modo che, nel mio caso, ad esempio, c'è un pochino più di spazio qua, non è voluto in realtà, però va molto bene perché dove sarà il bambino? L'idea del bambino è che è il bambino solare, quindi quello spazio bianco ci servirà per poter irraggiare con un bel giallo quello che sarà il volto del bambino, ok? Ok, ok. Per adesso... Quindi non penso di dover ingrandire, cioè non mi faccio condizionare dall'idea di dover ingrandire la forma, perché la vedo ora piccola rispetto a... No, poi è quello, invece di lavorare con l'intelletto, in questo caso dovete provare a lavorare con il sentire e provare a sentire quella macchia di colore che cos'è. Io vi ho detto, sono le forze lunari, quindi le forze lunari non è che ci arrivano fino a... Arrivano fino a un certo punto. La volta scorsa vi ho detto, queste forze di gravità che venivano percepite, che sono forze lunari poi sostanzialmente, che venivano percepite dall'uomo antico, si sentiva attrapato, si sentiva aggarrato, o non mi viene una parola adesso... Afferrato. Afferrato, grazie. Si sentiva afferrato fin nella zona, diciamo, metabolica. Quindi fino a qui arrivavano queste forze, poi sopra no, sopra era più libero in un certo senso. Adesso le cose, vedremo nella parte teorica, sono un po' cambiate, però quello che vogliamo rappresentare proprio sono queste forze lunari che salgono, poi cambiano, no? Perché incontreranno qualcosa dall'altro, dall'alto. Quindi possiamo vedere che queste forze lunari viola, con questo viola intenso, che poi cambierà di tonalità, e perché cambia di tonalità? Perché incontra altre forze, in un certo senso. Se lavoriamo in questo modo, invece di pensare, di fare una figura, no? Che quella parte intellettuale chiaramente vuole sapere dove voglio arrivare. Però questa volta la parte intellettuale deve stare tranquilla, concentrati su questo. Ok. Quindi vado con il giallo, andiamo con il giallo. Vado a cambiare l'acqua perché la mia acqua ormai è bella azzurra. Azzurra e rossa, sono qua. Vado a cambiare l'acqua e torno. Vado a cambiare l'acqua e torno. Allora, sono tornata. Andiamo a fare questa piccola introduzione di giallo. Consuelo, io i miei volti li vedo già molto molto vicini, anche perché non ho lasciato tanto spazio bianco in realtà, nel senso che è un po' così. Io ho paura a mettere, cioè non so bene esattamente il giallo, quanto e come metterlo, perché effettivamente io vedo già, cioè, i volti qua. Allora, in questo caso, Alessia, diciamo, più che tra i volti, potrebbe essere leggermente sotto, nella parte, possiamo dire, del collo, no? In quel caso parte il giallo e poi va in giù. Così non deve essere eccessivo, può essere anche solo una puntina di colore, perché questo dipende da come abbiamo lavorato. L'importante è però che la mettiamo, che mettiamo anche questo splendore. è molto tenue, quindi non molto visibile. Ricordatevi sempre di pulire il pennello se poi andate a toccare il rosso, eh? Ecco, il mio è diventato verde, perché almeno non era pulito bene il pennello. No, può essere che mia figlia ci abbia la... eh, mia figlia ci ha messo le mani. Vabbè, paziente. Prendola qua. Eccola qua. Eccola qua. Ok. 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 Vi faccio vedere un po' quello che è successo qua, vedete? Non so se si vede perché la luce è veramente molto forte, così, così, si vede un po' che qua c'è del giallo e poi qua c'è già una tonalità d'arancione che è nata, dove ce l'ero losso. Poi in realtà appunto, seconda del rosso dell'equilibrio eccetera eccetera, possono sorgere anche in spazi molto piccoli però delle tonalità di colore molto particolari come il fior di pesco, come l'arancione, l'arancione giallo, l'arancione rosso. E' molto divertente in realtà poi riuscire a scorgere le varie tonalità che si possono creare. Se non facciamo una pennellata omogenea ma lasciamo che il colore penetri nell'altro, si creano queste tonalità. Bene, siamo quasi... come siete messe? Avete fatto il giallo? Allora siamo arrivati... vi faccio vedere allora... perdono... allora... queste due immagini che si sono create, nell'emisfero sud e nell'emisfero nord, nell'emisfero sud ancora non è presente nulla, perché nell'emisfero sud possiamo dare forma a quelle che sono le forme animali, che in questo caso sono le farfalline che sono venute a trovarci. Poi c'è chi ha fatto coccinelle, insomma questo è libero. E la figura, diciamo, della vergine con il sole è ancora dentro la sua mandorla, non è ancora uscita, sta libera per essere in qualche modo sviluppata. Quindi qui vediamo che sono proprio due atmosfere totalmente diverse, una notturna e l'altra diurna. Una è estiva, l'altra invernale. Una che fa intendere, presagire tutti i colori e un'altra che invece li può manifestare nel manto. Bene. Allora, la volta scorsa La volta scorsa abbiamo fatto, abbiamo visto Un momento che sistemo alcune cose qua Non ci arrivo Allora, la volta scorsa Allora, la volta scorsa Scusa Consuela, abbiamo finito col colore? Sì, sì, con quest'ultima parte del giallo abbiamo finito No, nel senso abbiamo finito sul dipinto Sì, sì Perché ti chiedo per stendermi Perché non ce la faccio più Puoi stenderti, tranquilla Allora, adesso Quello che potete fare, ad esempio, una volta che si seccherà Quindi verranno fuori in maniera molto più intensa le tonalità che voi avrete creato Se volete, sarà proprio quella di rimarcare un pochino i volti, se volete Ma non è necessario Rimarcarli vuol dire mettergli colore E se volete potete Stemperare quella linea di azzurro Che arriva fino al manto Anche se, come vi ripeto, può essere anche una sorta di paesaggio Da un punto di vista pratico Però per adesso direi che Ci possiamo fermare Allora, la volta scorsa Abbiamo visto come Venivano celebrate le festività Per l'uomo prima del Cristo Abbiamo detto più o meno Si sta parlando di un'epoca molto antica Che possiamo far arrivare, finire, diciamo, far finire Intorno all'VIII secolo avanti Cristo Quindi si sta parlando comunque di molto tempo fa E che ha le sue radici ancora prima In quella che possiamo vedere come epoca lemurica Epoca atlantica Epoca una volta che inizia Diciamo a vestirsi di pelli l'essere umano Quindi a incarnarsi in un corpo fisico La possiamo vedere nell'epoca indiana Persiana Ad arrivare più o meno A quello che è l'edizio caldaico Perché più o meno siamo lì E quello che Abbiamo visto di questo periodo È che l'essere umano Festeggiava, celebrava Soprattutto i misteri estivi Quelli che noi Per noi ora sono Il Natale come mistero È andato via È andata via la cosa Non so che cosa è successo Avete sentito più o meno Che parlavo dei misteri estivi Nell'antichità comunque Non ha detto niente di che Avete, siete riusciti a sentire? Sì? Sì Sei arrivata fino all'epoca Lemurica e Atlantica Anche quando Fino quando gli uomini Vestivano con le pelli Poi ti sei bloccata Vestivano di pelli Pelli In questa epoca Prima del mistero del Golgotha È che si celebravano I misteri estivi Quelli che noi chiamiamo I misteri del Natale Invernali Erano celebrati d'estate E se vi ricordate Avevo parlato proprio del fatto Che si celebravano in estate Perché in questa respirazione Della terra Dove nell'estate C'era la massima espirazione Si arrivava a percepire La coscienza dell'io Nel cosmo Quindi l'uomo diceva Io ho un io E sta lì nel cosmo E grazie a questo In un certo senso Si svegliava all'io Poi invece Ritornava L'anima della terra Tornava a essere ispirata Quindi anche L'uomo perdeva La capacità di connettersi Con il mondo spirituale Fino ad arrivare Nel profondo inverno Dove si sentiva Praticamente solo Isolato nel cosmo Non poteva più Arrivare Né a percepire Il suo io Nel cosmo Né a percepire Le grandi gerarchie Vino spirituale E quindi questa Diciamo Come fai a mettere Un mistero Una celebrazione Era difficilissima Infatti era Un periodo Di grande sconforto Di grande dolore E allora la domanda è Ma in questa estate Dove c'è questa Ispirazione massima Dell'anima della terra Dove se ne andavano Questi Dove arrivavano A toccare la coscienza Dell'io nel cosmo Dove arrivavano Arrivavano in quella che era In quella che è tuttora La sfera del sole E delle stelle fisse Che noi chiamiamo Anche zodiacale Dove stavano Le correnti Zodiacali Ok? Facciamo le stelline L'anima L'anima della terra E così anche l'uomo Poteva arrivare A congiungersi Con quello che era A questo livello In questa grande In questa ultima sfera Diciamo Percepibile Nell'epoca antica Chi c'era sul sole? Cristo Lo sole c'era La grande entità Del Cristo La divinità solare Per eccellenza Era il Cristo Quindi In questo In questo rito In questa celebrazione Della festa estiva L'uomo di un tempo Poteva congiungersi Con il sole E le stelle fisse E quindi Poteva congiungersi Anche con il Cristo Laddove c'era Il suo io nel cosmo Poi noi sappiamo Che In quell'epoca L'essere umano Non Non aveva una percezione Dell'io Come ce l'abbiamo adesso Individuale Incarnata E sappiamo Che c'era ancora Un io di gruppo Quindi quello che andavano A toccare Era questo io In un certo senso Che stava con il Cristo Che stava con il Cristo Sappiamo anche però Che nelle varie epoche Dei grandi maestri Cominciano ad apparlarci Che questa grande individualità Del Cristo Comincia ad avvicinarsi E quindi E quindi Dalle stelle fisse Vediamo che arriva A livello Delle sfere planetarie Fino ad arrivare Alla sfera lunare Dove l'influsso è Del sole Della luna E della terra Fino ad arrivare Finalmente Sulla terra Con l'incarnazione Nel Golgota E quello che succede Sostanzialmente Nel mistero del Golgota È che il sangue Del Cristo Crocifisso Nel momento Poco prima Della morte È il momento Di massima Incarnazione Del Cristo In un corpo umano E quindi Questo sangue Che scende Dalla croce È un sangue Compenetrato Dallo spirito Del Cristo È un sangue Che tocca Terra Penetra Dentro la terra Da questo Momento È il Cristo Stesso A essere Lo spirito Della terra Quindi Dopo il mistero Del Golgota Nella respirazione Della terra Noi vediamo Anche La respirazione Dell'impulso Cristico Ed è Totalmente Distinto Allora Guardiamo un momento Questa respirazione Vediamo Che in estate Abbiamo la massima Ispirazione Tuttavia Ancora succede Non è cambiato Questo Perché è la relazione Tra la terra E il cosmo La massima Ispirazione Dell'anima Della terra Verso il sole E le stelle Fisse Con l'autunno Ritorna Poco a poco In quella Che è L'atmosfera Della terra E comincia A ritornare No? Verso la terra Quest'anima Della terra Quindi comincia L'inspirazione Nell'inverno Che è il momento In cui state State voi Si trova Nella massima Ispirazione E nella primavera Un'altra volta Possiamo vedere Che comincia A trovarsi Nell'atmosfera Terrestre E quindi Comincia A essere Ispirata Se noi Guardiamo Vediamo Che c'è Sì una polarità Tra questi Tra questi Quattro eventi In particolare Vediamo Che c'è Una polarità Netta Tra estate E inverno Perché qui È tutta fuori Qua È tutta dentro In un certo senso Se guardiamo L'autunno E la primavera Vediamo Che la polarità Sì c'è Di direzione Ma in realtà L'anima Della terra Si trova Nell'atmosfera Poi in una parte Sta salendo E nell'altra parte Invece sta tornando Ma si trova Nello stesso punto Questa è una cosa Che è importante Perché soprattutto Nell'emisfero Sud È molto difficile Concepire In pieno autunno La Pasqua Però In realtà Sono due momenti Diciamo Della stagione In cui Quello che succede È molto simile Ok È la tendenza Che vive La direzione Che è diversa Ma L'anima della terra È nell'atmosfera Della terra Non è dentro O fuori Nel cosmo Quindi c'è Una gradualità Allora A questo punto Dobbiamo anche Vedere un'altra cosa Vediamo Se trovo Un'arancione L'espirito della terra È il Cristo Dal momento del Golgotha Quindi a parte L'anima Della terra Che viene Ispirata E ispirata Durante il ciclo Dell'anno E Di conseguenza Anche Gli esseri elementari Della terra Della natura Vengono Ispirati E ispirati Nella stessa forma Possiamo dire Che anche L'impulso del Cristo In piena estate Si proietta Fluie Si irradia Mi viene la parola In italiano Si irradia Verso il sole Verso le stelle fisse Per unirsi Alle correnti E alle forze Solari E alle correnti Zodiacali Non c'è E questa è una cosa Importante Da capire Non c'è più In nessun momento Dell'anno Il senso Di abbandono Cosa dice il Cristo Nel Vangelo di Giovanni Io sarò con voi Tutti i giorni In questa frase Io sarò con voi Tutti i giorni C'è una realtà Che possiamo vedere Rispecchiarsi Nell'anno Qui il Cristo Si proietta E si unisce Alle forze Cosmiche E alle forze Zodiacali Fuori dalla Consuelo Scusa Si sente malissimo Poi ogni tanto Sparisci Sì? Sì Aspetta Non so se sono Solo io Aspetta che faccio Un cambio Allora Mi sentite meglio? Vediamo se così cambio Mi sentite meglio? Pronto? Pronto Pronto Mi sentite meglio? Pronto Ok Mi sentite adesso? 20 Allora Mi sentite? Poco Meglio Mi sentite? Adesso sì Adesso sì Ok Sì Ok Adesso speriamo Che non ci siano problemi Ho fatto il cambio Di nuovo Perché prima Me l'ha cambiato Adesso vediamo Se si sente Se non ci sono problemi Se ci sono dei problemi Mi avvisate Siete di nuovo Tutti congelati Vediamo Ok 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 Che strano Non riesco Mi sentite? Adesso sì Ok Speriamo bene Speriamo bene Ok E non so perché Sta andando via la linea Però non sta piovendo Nel caso si blocchi Magari puoi provare A sospendere la registrazione Un attimo E riavviarla Non so se Sovraccarica la linea A volte La registrazione Quindi magari puoi provare A toglierla Se si blocca ancora E poi Riavviarla Ok Una buona Una buona osservazione Proverò a fare Grazie Alessia Ok Adesso vediamo Se si blocca di nuovo Però Allora Stavamo dicendo Più che altro Che cosa stava succedendo All'impulso del Cristo Durante il ciclo Che cosa succede All'impulso del Cristo Durante il ciclo dell'anno In estate abbiamo Questa Questa Irraggiarsi nel cosmo Per unirsi Nel cosmo E poter Così Unirsi Anche alle correnti Zodiacali Che incontriamo Nel confine Diciamo Delle stelle fisse Nell'autunno Incomincia L'impulso Meglio spegnere i microfoni Ok Aspetta Spengo i microfoni Ok Aspetta Aspetta Ok Sono tutti silenziati Vediamo che L'impulso del Cristo Poi in autunno Comincia A ritornare Verso la terra Nell'inverno L'impulso del Cristo È dentro la terra Quindi vediamo Che effettivamente Non c'è solamente La luce del sole Che viene in qualche modo Catturata All'interno della terra Nell'inverno Per portare La possibilità Di una nuova vita Noi sappiamo che Le piante Che cominciano A germinare Durante la primavera Germinano Grazie alla forza Del sole Dell'anno passato Grazie alla forza Del sole Che è contenuto Sottoterra In un certo senso Mentre ciò Che fiorisce E matura Nel frutto È qualcosa Che ha a che fare Con il sole Dell'anno Quindi con le forze Dell'estate In un certo senso Ma qui vediamo Che non solamente Ci sono forze solari Che vengono Dentro la terra C'è proprio L'impulso del Cristo Che permea la terra E poi vediamo Che nella primavera Di nuovo Torna questa Espirazione Verso Verso il cosmo Che si trova ancora Dentro l'atmosfera In questo momento Per poi Proiettarsi nel cosmo E la cosa importante Che dicevo È che In tutto questo Non c'è più La possibilità Di essere soli Nel cosmo Come si percepiva Anticamente Perché il Cristo È unito Costantemente Al ciclo Durante il ciclo Dell'anno Alla terra Ora Dobbiamo fare Un altro passo Un altro passo Importante Perché Nel Durante l'estate Succede qualcosa Di molto diverso Di quello che succedeva Nell'estate Prima del Cristo Nell'estate Prima del Cristo C'era questa Proiezione Verso il cosmo Verso il Cristo stesso Quindi Era un momento Di assoluta Celebrazione Del ricevere La luce Ricevere L'illuminazione Ricevere La connessione Il messaggio Con il mondo Divino spirituale Che cosa cambia Adesso Adesso cambia Che sì L'impulso del Cristo Che non ci abbandona mai Però si trova Nel cosmo Si trova a unirsi Nel cosmo Fa sì Che la terra Stessa Diventi Quello che è Una superficie Riflettente Di quello che succede Nel cosmo La terra Stessa Diventa Uno specchio Cosmico E qual è una caratteristica Dello specchio E la caratteristica Dello specchio È che Se io devo avere Questa capacità Di riflettere È perché Sono impenetrabile Io posso Riflettere Solo quello Che non può Penetrare In me E questo Vuol dire Che La superficie Della terra Durante l'estate Diventa Uno specchio Riflettente Ossia Impermeabile All'impulso Del Cristo Allora adesso Capiamo Anche quello Che diceva La volta scorsa Monica Che Legata alla domanda Di Monica Che diceva Ma perché Alla fine Dell'estate Poi Si parla Di un periodo Molto Intenso Dove Siamo più vicini All'influsso Arimanico È proprio Per questo Siamo più vicini All'influsso Arimanico Proprio perché La terra È diventato Uno specchio Cosmico Riflette Quello che succede Nel cosmo Ed è per questo Che è impermeabile Al Cristo La terra Non noi L'impulso Cristico È sempre Con noi Nel cosmo Noi siamo proiettati Ad andare nel cosmo Insieme al Cristo Però questa è una cosa Molto importante Quindi vuol dire che A un certo punto A partire dal solstizio D'estate Fino all'equinozio Di autunno In questo periodo Che ancora è estate Inizia l'autunno In un certo senso Abbiamo quella Che è la massima Invasione Tra virgolette Dell'influsso Arimanico Che nell'immaginazione Dell'autunno Rudolf Steiner Dice Sono come dragoni Nell'atmosfera terrestre Dragoni potremmo dire Rossi Che nell'atmosfera terrestre Cominciano a penetrare Sono nell'atmosfera terrestre Arriveranno addirittura Sotto terra Che è importante E grazie Posso chiederti Non ho ben capito Ancora che da tempo Mi rimane sta domanda Tra estate Ecco presa così Se guardiamo appunto La differenza tra emisfero Sud e Nord Si rispettia estate Come l'estate Giugno E poi inverno Dicembre Ed è così Per tutta la terra O cambia Secondo l'emisfero Questa è una cosa Che appunto Risponderemo Adesso Quello che sto facendo io È vedere Che cosa succede Durante l'epoca E poi vi do La visione completa Di quello che succede A Nord e a Sud Perché è molto importante Capire Adesso voi siete a Nord Però è molto importante Capirlo Per poter celebrare In maniera sana Le festività Perché Vivere in una mentira In una menzogna La festività Non Non ti porta a niente Anzi Ti porta a un grande disagio Quindi noi che siamo adesso a Sud Io che sono a Sud Mi ritrovo Costantemente A dover fare un lavoro Per capire Che cosa sta succedendo Intorno a me Qual è la La percezione dell'anima E Il fatto che comunque Sto celebrando La stessa festa A Nord E questo è corretto Le feste sono cosmiche Sono eventi cosmici Quindi È Natale In tutto il mondo Però L'atmosfera di Natale Può essere Estiva O invernale A seconda di dove sei Quindi questa Questa è una cosa Che appunto Adesso Poi verrà fuori Perché per me È molto importante Visto che sono Da questa parte Soprattutto Quindi Abbiamo questo Questo momento Dell'estate Dove sì C'è questa massima Aspirazione Verso il cosmo Bellissimo Il Cristo si unisce Alle correnti Zodiacali Noi ci espandiamo Grazie ai sensi Nel cosmo Possiamo percepire Quella che è La spiritualità Oggettiva Nella natura Durante l'estate Che sono tutte Le caratteristiche Dell'estate Ma nello stesso tempo Passato Il solstizio D'estate Inizia Un'invasione Arimanica E quindi Un coinvolgimento Di Arimanica Forse ci sta mettendo Anche lo zampino In questa registrazione Può essere Anche questo Che comincia A percepirsi In maniera forte Ok Soprattutto In questo periodo Nello stesso tempo Poi arriva Questo momento Dell'autunno Dove queste forze Ritornano Verso la terra E quindi Viene sconfitto Durante l'autunno Arimane L'influsso latimanico Vedremo come E arriviamo All'inverno Dobbiamo Tenere conto Allora Di che cosa Succede Giustamente Con Brigitte Che cosa succede Dall'altra parte Della terra Faccio questa linea Molto brutta Che separa I due mie sferi Se da una parte Vi ricordate Il primo incontro Abbiamo fatto Abbiamo guardato Con uno sguardo esteriore La relazione Tra terra E cosmo Quindi Uno sguardo esteriore Che ci aiuta A capire Come esteriormente Sono in relazione La terra E il sole E abbiamo visto E abbiamo visto Che quando da una parte È estate È perché Dall'altra parte È inverno Quindi Quello che dobbiamo capire È che Da una parte È estate C'è il solstizio D'estate E dall'altra parte C'è il solstizio D'inverno Questo vuol dire Che l'impulso cristico L'impulso del Cristo L'anima della terra Sono dentro la terra A sud E si forma Un'immagine polare Allo stesso modo Durante l'autunno Vediamo che Nell'equinozio autunnale Corrisponde Dall'altra parte Della terra L'equinozio primaverile E quindi vedremo Un'immagine Molto simile Sostanzialmente Però La differenza qual è? Che nel sud L'impulso è quello Di uscire Cominciare a essere Espirato fuori Perché è primavera Nel nord È quello Di entrare dentro Stanno rientrando dentro Se poi guardiamo L'inverno Dove siete voi Sappiamo che adesso Noi ci stiamo Avvicinando Al solstizio Invernale Nel sud E quindi Alla massima Ho un Gessetto Molto piccolo Non so dove è andato Quell'altro più grande Mi permette di farlo meglio Eccolo qua Abbiamo la massima Ispirazione Dell'impulso Cristico Verso il sole Verso Lo zodiaco Verso le correnti Zodiacali E quindi Vuol dire che Dalla nostra parte Una volta Superato Il solstizio D'estate A sud La terra Sarà Una bellissima Un bellissimo Specchio Cosmico E cominceremo A sentire L'influsso Lo sentiamo L'influsso Arimanico Perché poi qua Ariman Ci sguazza Da questa parte Dell'emisfero Soprattutto In occidente Per concludere L'immagine E averla totale In primavera Da voi Avremo L'autunno Nella zona Nell'emisfero Sud Quindi sostanzialmente Molto simile A quello che succede Qua Però con la differenza Che Nel nord Ci sarà Un'espirazione Mentre nel sud Ci sarà Una Inspirazione Quindi La direzione È diversa Ma In questo Stato Cioè Nell'equinozio Qualunque Esso sia Lo spirito Della terra E l'impulso Del Cristo Si trovano Nell'atmosfera Poi Da una parte Sta andando dentro Dall'altra Sta andando fuori Ma si trova Nell'atmosfera Mentre Nella Solstizio Che sia estivo O invernale Quello che succede È proprio Totalmente Polare Da una parte Abbiamo L'impulso Cristico Che si unisce Al cosmo E dall'altra parte Abbiamo L'impulso Cristico Che è penetrato Completamente Nella terra Questo perché Chiaramente Dobbiamo sempre Pensare Che una volta Che passiamo Il limite Fisico Materiale Sappiamo Che esiste La compenetrabilità Delle cose Dei principi E delle forze Quindi Non dobbiamo Pensare Ma l'impulso Se ne sta andando fuori Da una parte Invece dentro Dall'altra No Perché dobbiamo Ricordarci Proprio di questo Concetto Della permeabilità Delle forze Delle sostanze Che non sono fisiche Che non sono fisiche Materiali L'impermeabilità È una caratteristica Proprio Del corpo Fisico Materiale Non è la stessa Non è la stessa cosa Non è la stessa cosa Però lo aggiungiamo Dobbiamo quindi Adesso Richiamare All'attenzione Qualcos'altro Di molto importante E lo faccio Attraverso Di una data La data In questione È il 1879 A questa data Noi sappiamo Che corrisponde A un grande evento Spirituale Possiamo dire Nel mondo spirituale Fino a questa data Si era istituita Una scuola Michelica Una scuola di Michele Dove molti di noi Hanno partecipato Perché chi conosce L'antroposofia Per un motivo O per un altro Ha partecipato Quindi sappiatelo Siamo tutti compagni Della stessa scuola Alunni della stessa scuola E in questa Questo è un evento Fondamentale Quello della scuola Ma quello che succede Alla fine Diciamo Di tutto questo Nel 1879 Segnato Diciamo Da questa Da questo anno È che Una grande battaglia A livello spirituale Viene vinta Michele In questo anno Sconfigge Definitivamente Gli angeli ribelli Per lo più Arimanici Tutti contenti Se non per il fatto Che sconfiggendoli Li ha tutti scaricati Sulla terra Insomma Noi Da questo punto di vista Dobbiamo Siamo contenti Della vittoria Però poi ci dobbiamo fare I conti noi E questo è il punto Importante Sappiamo anche Che proprio grazie A questa E Proprio grazie A tutto Quello che Michele Ha fatto Fino ad arrivare A questo anno 1879 Michele passa di grado Da arcangelo Riesce ad evolversi Fino Allo stato Di arcai Che è lo spirito Dell'epoca Quindi Dal 1879 In avanti Noi dobbiamo Vedere Michele Come reggente Dell'epoca Quindi lo troviamo Un po' come il prezzemolo Ovunque Il fatto Che si festeggi Nell'emisfero sud La Pasqua In autunno E quindi sotto La reggenza Di Michele Non ci deve Diciamo Confondere Adesso lo vedremo Michele Essendo il reggente Dell'epoca Ha una relazione Molto forte Con quello che succede Alla terra E al suo spirito Che è il Cristo Quindi Quando in estate Vediamo che L'impulso cristico Si unisce Al cosmo Vediamo che Anche Michele È proiettato Nel cosmo E noi sappiamo Che Michele Oltre a essere qui Nel cosmo Durante l'estate E uno dei suoi compiti È proprio quello Di attingere Le forze La maggior parte Di forze E noi sappiamo Che in questo periodo Dell'anno Cominciano a cadere Meteoriti Sulla terra Questa pioggia Di ferro meteorico Che poi servirà Frase bellissima Di Rudolf Steiner A forgiare La spada di Michele Proprio perché La terra Si sta Arimanizzando E questo Da tutte le forze All'autunno Per sconfiggere Queste Queste forze Arimaniche Che sono penetrate Questa cosa succede Che l'estate Autunno Si svolga A nord O che l'estate E l'autunno Si svolga A sud Chiaro E questo Fa sì Che Il lavoro Tra Cristo E Michele È sempre Polare Se qui Michele È proiettato Nel cosmo Insieme All'impulso Del Cristo Qui Michele Si incontra Dentro la terra Con l'impulso Del Cristo Quando mai Possiamo stare Soli È impossibile Questo non succedeva Prima Del mistero Del Golgotha Allo stesso modo Chiaramente Michele Si trova Nell'atmosfera Terrestre Così come Si trova L'impulso Del Cristo Nella situazione Di autunno E primavera Allora in questa Visione In questa Visione Possiamo fare Non so se Fino adesso è tutto Chiaro Scusami Poi ripetere Io non ho capito La penultima Cosa Che hai Detto Cioè Che Non siamo mai Da soli Perché Non siamo mai Con Cristo In un emisfero Si collega Al nord Fuori E una volta Dentro Sì Nel senso Che Ma in generale Anche solo Guardando solo L'emisfero Se guardiamo Anche solo Un emisfero In estate L'impulso del Cristo Si proietta Verso Il cosmo Ma in realtà Non abbandona Mai L'essere umano Ok Ora Non so se voi Avete avuto L'opportunità Di leggere Ve le consiglio Le conferenze Che si chiamano I misteri Messicani Non mi ricordo Adesso Vi mando L'email Perché In questo momento Non mi ricordo La La differenza Bibliografica Però ve la mando Nei misteri Messicani A un certo punto Si parla Di un grande Di un grande evento Che è Corrispondente Al momento In cui Viene crocifisso Il Cristo Sulla terra Nello stesso momento In cui Il Cristo Veniva crocifisso Sulla terra Dall'altra parte Del mondo In Messico Veniva crocifisso Il Mago Nero Con tanto di nome E cognome Che io adesso Non mi ricordo E questo era Un evento Fondamentale Importantissimo Per portare Equilibrio Perché il Cristo Se fosse Stato crocifisso Solamente lui Se fosse stato Crocifisso Solo il Cristo Sarebbe stata Sconfitta La morte Cioè Non avremmo Potuto morire E uno dice Ma perché Sarebbe stato meglio E no Perché Perché sarebbe stato Un bello stravolgimento Ricordiamo sempre Che il Cristo Fa un sacrificio Non era Non faceva parte Dell'evoluzione Dell'umanità Era uno spirito Che era molto più elevato E faceva già Il suo corso Non era necessario Mettersi dentro All'evoluzione umana Quindi il fatto Che fosse entrato Necessitava Di una serie Sia di preparazioni Per Proprio la preparazione Corporale Di quello che Era il veicolo Del Cristo Come corpo umano Ma anche Una serie di preparazioni Per evitare Degli scompensi Come proprio Quello di Togliere Eliminare La morte In un momento In cui l'essere umano Non poteva Togliere la morte E quindi In un certo senso In queste conferenze Viene spiegato Da Rudolf Steiner Che La crocifissione Del mago nero Dell'alto mago nero Che era come Una sorta di Nemesi Nel momento Del Golgotha Del Cristo Consentiva Di riportare La morte Nell'umanità E quindi Riportare Un equilibrio In un certo senso Possiamo vedere Che questo equilibrio Viene rispettato Proprio dal fatto Nel ciclo dell'anno Di questa alternanza Dove Da una parte È autunno Dall'altra è primavera Da una parte è inverno Dall'altra è estate Quindi questa necessità Di lasciare Un equilibrio Mantenere Un equilibrio Come Tra morte E nuova nascita Essenziale Essenziale Perché Se abbiamo qualche dubbio Dobbiamo ricordarci Adesso io poi Mi invito sempre A rileggervelo Perché comunque È sempre molto interessante Le immagini che vengono portate Dai testi sacri Noi abbiamo Il Vangelo In questo caso Che ci porta Delle immagini Molto particolari Quando Tutti vi ricordate Sicuramente Il momento in cui Viene Salvata Dal Cristo In un certo senso La prostituta L'adultera L'adultera Vogliono lapidarla Ma il Cristo Poi dice Chi è senza peccato Scagli la prima pietà Tutti se ne vanno A un certo punto Rimane solamente Lei e il Cristo E il Cristo Si mette a disegnare Per terra Scrive per terra A tracciare dei segni A tracciare dei segni E questo è fondamentale Perché Il Cristo In un certo senso Può intervenire Nel Nel karma individuale Però il karma Della terra In un certo senso Deve essere lasciato A se stesso Il tracciare I segni Sulla terra In un certo senso È proprio Questo gesto Di Mettere Lasciare Il karma Della terra Che possa fare Il suo corso Da questo punto Di vista Capiamo Che c'è E non toglie niente Alla grandezza Del Cristo Ma c'è la necessità Di preservare Un equilibrio Tra le cose Un equilibrio Sempre Dinamico Mai statico Ma che deve esserci In un certo senso È un po' Consuelo È un po' Come il momento Che stiamo vivendo Praticamente Cioè È come se È come se I cieli Perché ti viene Da dire No Metteteci una mano Cioè Fate finire Sta cosa Così Però proprio oggi Ascoltavo Che la terra Sta vivendo Esattamente Quello che deve Vivere Per evolversi Cioè Come un'opportunità No E quindi È l'ombra Diciamo È l'ombra Perfetta Per farci Crescere Esatto Ma poi Non solo Questo dal punto di vista Globale Parlando proprio Della terra Se poi vogliamo fare Anche un'analisi A livello di popolo Noi apparteniamo Comunque A quello che è L'eredità Della quarta epoca Greco-romano Metà dell'Italia Era impero greco Perdona Era sì Impero greco E l'altra parte Era un impero romano Quindi noi ci siamo In mezzo totale In forma Proprio piena Però noi non siamo più Nella quarta epoca Dobbiamo arrivare Nella quinta Ci sono modi e modi Di arrivarci Questo sicuramente Non è tra i migliori Però in un certo senso È necessario Che anche noi Come popolo Possiamo Entrare Nella quinta epoca Quindi sono tutti Quindi sono tutti Rimedi O tentativi Per poter poi Avanzare E creare Delle opportunità Di crescita Come dice giustamente Elisa Non solamente A livello globale Proprio anche A livello di popolo Per non parlare Quindi adesso Per esempio Volevo portarvi Ancora Questa immagine Che abbiamo Tra Michele E il Cristo E di come Il fluire Nel cosmo Del Cristo Sempre E di ritornare Poi nella terra Sempre in qualche modo È accompagnato In una forma Parallela O polare Dipende Alla Dall'impulso Michelico Michaelico Dall'impulso Di Michele In un certo senso Questa Lemniscata È molto particolare Che si intreccia Può aiutarci A lavorare Su questo Legame Che c'è Tra il Cristo E Michele Un legame Che non inizia Qui È molto più antico Vi ricordate Che La volta scorsa Abbiamo parlato Di questi Quattro sacrifici Che fa il Cristo Ora possiamo dirlo In questi Quattro sacrifici Che fa il Cristo Lo fa Grazie Proprio All'essere Arcangelico Micheliano Che penetra Compenetra Permette al Cristo Di compenetrare L'anima Natanica E l'anima Natanica Fa a sua volta Un altro Sacrificio Perché Invece Di incarnarsi Fisicamente Assume Una forma Eterica Umana Che Compenetrata Dal Cristo Da determinati Impulsi Che sono Proprio i primi Tre impulsi Per superare I tre grandi Ostacoli I tre grandi Tentativi Dell'ostacolo Fino ad arrivare Poi alla Quarta Al quarto Sacrificio Dove finalmente L'anima Natanica Si incarna Fisicamente E permette Al Cristo Stesso Di essere Il Compenetrare E poter Mandare Questo quarto Impulso L'arcangelo Michele In tutto Questo È sempre Stato Diciamo Il Veicolo Che ha Permesso Che queste Due Parti L'anima Natanica E l'impulso Del Cristo Potessero Essere Congiunte Quindi Vediamo Che è Molto Antico Questa Relazione Infatti Una Delle Traduzioni Più Esoteriche Del Nome Micael E Volto Di Cristo In Questa Immagine Vediamo Che effettivamente Le feste Tra di Loro Si Chiamano Si Richiamano Con Una Forza Importante Con Un Mistero Da Approfondire Il Natale Chiama San Giovanni Michele Chiama La Pasqua Viceversa La Pasqua Chiama Michele San Giovanni Chiama Natale Come Ultima Parte Proprio Perché Sono Arrivata Ci sono stati Piccoli Problemi Tecnici Ma Mi Prendo Cinque Minuti Poi Vi Lascio Parlare E Come Ultima Parte Voglio Farvi Vedere Ancora Qualcosa Che Manca In Tutto Questo E Che Ci Aiuterà Anche A Comprendere Meglio Ancora di Più Queste Polarità Che Si Presentano Nello Stesso Momento In Zone Diverse Della Terra Noi Sappiamo Che Ogni Stagione In un Certo Senso È Retta Cosmicamente Da Uno Spirito Arcangelico Che Si Trova Nel Momento In Cui È Reggente Si Trova Nel Cosmo Quindi Le Forze Degli Spiriti Cosmici Si Si Influiscono Sulla Natura Dal Cosmo Sulla Natura Il Reggente Dell'inverno Che Adesso Voi State Diciamo State Accogliendo Nell'emisfero Nord È Gabriele Gabriele È L'Arcangelo Che In Questo Momento Dal Cosmo Sta Osservando Sta Guardando L'uomo I Suoi Impulsi Arrivano Attraverso La Natura Ossé Dall'esterno Dal Cosmo Verso L'uomo Lo Sguardo Di Gabriele Dice Steiner È Uno Sguardo Dolce E Amorevole In Fin Dei Conti Se Guardiamo L'Arcangelo Gabriele Quando Parla Con La Maria La Maria Natanica E Giuseppe Salomonico Perché a uno fa l'annunciazione All'altro appare nei sogni Lo fa dicendo Non avere paura Tranquilla Va tutto bene A tutti e due Non avere paura Non cacciarla È incoraggiante A questo In queste parole Possiamo sentire Lo sguardo Amorevole Dolce Di Gabriele Mentre se guardiamo Al sud Del mondo Sappiamo Che è estate E sappiamo Che C'è La visione Di un altro Arcangelo Che non è Tanto conosciuto Un po' È un po' Lasciato fuori Dalle descrizioni Conosciamo molto bene I primi tre Arcangeli Sono sette In tutto Però Questo Quarto Non è molto Conosciuto Ed è il reggente Dell'estate Dal Dal cosmo Uriele Uriele All'italiana Uriele Questo arcangelo Viene nominato Ma non Non ci sono Particolari Non ci sono Particolari Come si dice Racconti O episodi Su Uriele Non così Famosi Almeno E quello E quello che si può dire Di Uriele È che Uriele Ha uno sguardo Dice Rudolf Steiner Severo Ammonitore Quando diciamo Ammonitore Dovremmo togliere Il giudizio di valore Nel senso che Non è che giudica Dicendo Questo è sbagliato Questo è giusto Questo è buono Però È ammonitore In un certo senso Per riuscire a capire bene Perché C'è questa serietà Nello sguardo di Uriele Dobbiamo tenere conto Di due fattori Il primo è Che Uriele Accoglie Nel suo proprio pensiero Il pensiero cosmico E quindi Uriele Raccoglie L'intelligenza E la saggezza E se noi ci ricordiamo Di quello che vi ho detto La volta passata Proprio Nelle misteri estivi Dell'antichità Non solamente Si poteva ricevere La coscienza Del lionel cosmo Ma si riceveva Anche La saggezza E gli impulsi morali Per tutto l'anno Perché Uriele Porta questo E Uriele Quando guarda Sulla terra Quello che vede A un certo punto È il contrasto E più che altro Ti fa vedere Nel A livello spirituale Ti mostra Costantemente Il contrasto Che c'è Tra le forme perfette Dei cristalli Quindi forme geometriche Pulite Cristalline Trasparenti E l'imperfettività L'inversione Morale Dell'essere umano Gli errori Dell'essere umano E in questo Farti vedere C'è la munizione Io mi sto prendendo Questi 5-6 minuti Vedo che alcune persone Se ne vanno Non so È un po' tardi Però Per poter finire Il quadro Così la prossima volta Possiamo Andare avanti Allora Come potete vedere Questi due Sono polari Tra di loro Così potremo vedere Nell'autunno Il reggente È Michele Mikael E in primavera E in primavera Il reggente È Raffaele Lo sguardo Lo sguardo di Raffaele È uno sguardo Riflessivo Meditativo Dice Rudolf Steiner È uno sguardo Che ti porta A riflettere Quindi non è Quindi non è Né serio Né dolce È proprio Come lo sguardo Del Buddha In alcune statue Del Buddha Potremmo vederlo E lo sguardo di Michele Lo descrive In una forma strana Perché dice Non è proprio Uno sguardo Se proprio vogliamo Dargli Una forma Di essere Lo sguardo Di Michele È come Un dito Che indica C'è un'azione Sostanzialmente C'è qualcosa Di particolare Quando io Indico qualcosa Ti indico Dove andare Ti indico La direzione Sei te Che poi La devi raggiungere Questa direzione Ed è esattamente Il Il principio Di Michele Michele Non agisce Se non agisci Ti devi mettere In moto Tu Io ti indico Poi ci devi arrivare Tu E quindi Abbiamo I quattro Arcangeli A livello Cosmico Dove sono Reggenti Seconda Della epoca La cosa Importante Che dice Steiner Di questo È che Chiaramente Gabriele Fa il ciclo Dell'anno Ritorna Un altro Inverno E ritorna Reggente Che cosa Succede A metà Dell'anno Dov'è Gabriele L'impulso Di Gabriele A metà Dell'anno Quindi Nell'estate In un certo senso Si potrebbe dire Penetra la terra E arriva Direttamente Nell'essere umano Allo stesso modo Uriele Nel giro Che fa Penetra la terra E arriva Nell'essere umano E allora Se noi guardiamo L'emisfero nord Cosa vediamo? Vediamo Nel cosmo Lo sguardo Di Gabriele Questo sguardo Dolce Amorevole Gentile E se guardiamo Dentro l'essere umano Vediamo La forza Di Uriele Che penetra Fin dentro Al sistema Neurosensoriale Neurosensoriale Uriele È colui che porta Nei suoi propri pensieri I pensieri Cosmici È colui che porta L'intelligenza E la saggezza Cosmica E questo viene In qualche modo Portato Dentro l'essere umano Nel suo Sistema Neurosensoriale In questo momento Dell'anno Per voi Per me Che invece Sono a sud Io vedo Nel cosmo Lo sguardo A monitore Di Uriele E penetra In me Nella mia Organizzazione La forza Di Gabriele In tutto Quello Che è un Processo Nutritivo Potremmo dire Nel sistema Metabolico Metabolico Proprio Legato Alla parte Della nutrizione Allora Vediamo Che le coppie Di arcangeli Collaborano Tra di loro E a seconda Di dove Stiamo Sulla terra Anche La loro Collaborazione Cambia In forma Polare In In Ottunno Possiamo Vedere Michele Sopra Nel cosmo E sentire Come penetra L'influsso Di Raffaele Nel sistema Respiratorio Con Tutte le forze Di guarigione Perché Raffaele Se lo guardiamo Come tipo Di arcangelo Lo conosciamo Come l'arcangelo Della Della Medicina Nel libro Di Tobia Lui viene Rappresentato Come colui Che indica Come guarire Il padre Di Tobiolo O Tobia Tobiolo Il padre Di Tobia Lo stesso nome Allo stesso modo Quando siamo In primavera Le forze Di Michele Penetrano Nell'essere umano In tutto ciò Che è il sistema Del movimento In fondo In fondo Lui E' colui Che guarda E' come un indice Che indica Quindi questo è un quadro Che riporta E richiama Costantemente Le polarità Io volevo portarvi Questo per farvi vedere Che effettivamente Non è qui E' molto difficile Ma si può trovare Il modo Poco a poco Di riuscire a celebrare Le feste Mantenendo In considerazione Tutte queste conoscenze E quindi manifestandole Non possiamo Io adesso sono Nell'estate piena Con uno sguardo Di Uriele Sui difetti E gli errori umani L'influenza Rimaneca intorno E in questo Vado a celebrare Il Natale Quindi è importante Capire Dove si è In che relazione È l'anima umana Con il ciclo Dell'anno E in che relazione È la terra Proprio Nel ciclo Dell'anno Lascio la parola A voi Io ho finito Io volevo chiederti No Più che altro Volevo dirti Una cosa Che mi succedeva Quando stavo in Messico A me mancava Cioè Una delle cose Che mi è mancata Di più Negli anni In cui sono stata In Messico È stato proprio Il cambio Delle stagioni Perché a me Sembrava di vivere Sempre espansa Verso l'esterno Così Ma mi sfinì Questa cosa Mi sfiniva Proprio Perché io facevo Delle giornate intere Sul divano Non ne potevo più Di questa Come dire No Di questo Essere Tutta Tutta fuori È certo È un sistema È un sistema Neurosensoriale Sfibrato Tu vieni Tu nasci Comunque Con un corpo Che viene Da una terra Anche questo Queste sono tutte cose Che noi dobbiamo Sempre tenere in conto No Non è che noi possiamo Noi possiamo muoverci Sulla faccia della terra E andare ovunque Questa è la cosa Intrigante Dell'essere umano L'ha sempre fatto Però l'ha sempre fatto Con una certa coscienza Atavica Non chiara Ma l'ha sempre fatto Con una certa coscienza Noi invece ci muoviamo Nel mondo Totalmente incoscienti A volte appunto Quanta gente Viene da questa parte Del mondo E sta male Gli attacchi Di diarrea Quanta gente Da qui se ne va In Europa E sta male Perché comunque sia Dobbiamo stare Dobbiamo aprirci Anche a questa Conoscenza Noi abbiamo Un corpo Europeo È un corpo Che ha delle caratteristiche Che ci consente Di andare A destra E a sinistra Senza grandi problemi Perlopiù A oriente O occidente Però Siamo abituati L'anima è abituata Cerca Il passaggio Ritmico Delle stagioni È molto diverso Da essere nati E ti sto parlando Proprio di nativi Nativi Perché poi Ci sono tutte le mescolanze Delle razze Con un'anima Che invece È proiettata Verso Quello che è Una Una doppia stagione Stagione secca Stagione di pioggia Che è praticamente Primavera Estate Perché Ragazzi Ve lo rifaccio Possiamo fare una conferenza Anche fra sei mesi E quello che vedete fuori È quello che c'è Cioè fra sei mesi In pieno giugno È così Dicembre È così Febbraio È così Marto È così Quindi La cosa interessante È che In una Che cosa mi porta A vivere costantemente In una situazione Del genere Mi porta In una Eccitazione In una sovra-eccitazione Del sistema Neurosensoriale Non a caso Proprio Nel paese Tropicali La gente Non è portata A dei grandi Pensieri Con Filosofi Perché Perché la terra Stessa Il rapporto Con la terra E il cosmo È fatta in maniera Che La persona Non è proprio Stimolata Di solito Qua Sono stimolati Non fanno male A volte Però sono stimolati A fare Hanno un sistema Della volontà Una volontà Molto Molto Accesa Loro Prima di pensare Agiscono Infatti a volte Si vede Fanno delle scale Che non portano Da nessuna parte Però A volte invece Però È sempre meglio Di quelli che invece Stanno lì a pensare Non fanno niente Capito Però queste sono Caratteristiche Che noi incontriamo Proprio Perché Siamo connessi Alla terra Abbiamo Una relazione Con la terra Anche se Noi non la capiamo Non la sentiamo In una forma Così accesa Quando una persona Come te Ha vissuto Qualche anno In Messico O come me Cinque anni In Perù Che è comunque Tropicale Oppure In Norvegia Oppure In Australia Lì Comincia a sentire E a percepire Un cambio Una tendenza Una tendenza Diversa Dell'anima Provate solamente Adesso Quando ritornerete A viaggiare Che si spera Che si possa Ritornare Prima o poi A viaggiare L'Italia Consente di avere Un'esperienza Dell'anima Molto Molto variata Rispetto ad Altre Nazioni Perché Veramente Noi abbiamo Molti Microclimi E il fatto Che noi Possiamo Produrre Così tanti Alimenti Differenti E soprattutto Trasformare Così tanto Gli alimenti È proprio Dovuta Alla caratteristica Della terra Che è una terra Molto particolare Se fai anche solo Cento chilometri È già cambiato Tutto È cambiata la terra È cambiata l'acqua È cambiato il vento È cambiato È cambiato tutto Tutto quello Che fa parte Degli elementi Quindi Tornando a viaggiare Visto che siamo stati Costretti a stare dentro Le nostre case I nostri comuni Proviamo A sentire Queste differenze Ci sono posti In cui Prendete la Calabria Tutto cresce Tre volte tanto A parte gli uomini È una cosa interessante Gli alberi Gli ulivi Sono tre volte Gli ulivi Che potete trovare In Toscano In Toscano O in Puglia Tre volte Sono enormi La terra La terra è coloratissima In Calabria Di un rosso acceso Ci sono ricordi Che ho Di quando feci Dei viaggi I frutti In generale Le verdure Tutto è grande Poi guardi gli uomini Come in Sardegna Tutta piccola Chissà Queste sono forze Che si stanno manifestando In Calabria Ad esempio È celebratissima Era celebratissima Quando faceva parte Della Magna Grecia Era celebratissima Persefone Chiamata la Dea Natura O Preserpina C'è un altro nome in romano Però sarebbe Persefone Questa divinità Che è costretta A scendere Preserpina Grazie Grazie Elisa Esatto E lei Costretta a scendere Per tre mesi all'anno Nell'Ade No? E per la quale appunto Demetra poi Dà le stagioni Dice ok Allora In questi tre mesi Non crescerà niente Per il dolore No? È interessante Vedere che in Calabria Proprio c'è questo Poi in Calabria Ci sono anche delle forze Molto Molto particolari Perché Si parla Che probabilmente Lì Rudolf Steiner Dice Nella terra di Calabria Non si sa bene dove Ci sarebbe il centro Il centro Il punto focale Di Klingor Del Che sarebbe Il massimo Male in assoluto Contro il Graal E Vabbè Queste sono tutte cose Che potete trovare Si sta vedendo in questo periodo Non so se è assistito Alle ultime cose Successe in Calabria Però comunque In questo periodo Qui Insomma In generale La Calabria Non è che ha sfornato No però ci sono stati Due o tre episodi Dell'ultima Delle ultime Tre o quattro settimane Insomma Questo non l'ho visto Però mi vado a informare Però è interessante Per dare una polarità Perché è sempre meglio Dare una polarità All'inizio della Calabria Proprio dove c'è San Gioacchino da Fiore C'è questa grande Irradiazione Di forze Assolutamente Benefiche Di Gioacchino da Fiore Che prende il nome Anche del paese Quello che ha disegnato lui Quello che ha portato lui Di queste Immaginazioni Cosmiche Dell'Apocalisse Sono straordinarie Io vi invito A visitarlo Quando potrete A cercarlo Per internet Se potete Questo è un esempio Se andate in Puglia Per esempio Sempre parlando degli olivi Gli olivi Si stendono Verso l'orizzonte Mentre in Toscana Stavano verticali Quindi questo ci stanno dicendo Adesso per dire Sono piccole informazioni O anche gli insetti Oppure Provate a mangiare Provate a mangiare Una frutta Che viene Un'uva Un'uva bianca Che viene dal sud E poi provate a mangiare Un'uva bianca Che viene dal nord E vediamo Per esempio Perché lì ci sono Tutte le forze del sole Lì ci sono le forze del sole Che nel sud Italia Hanno una determinata relazione Con le forze della terra Che sono molto diverse Dalle forze Che possono esserci a nord A nord ad esempio Si vede Si vede No si vede anche Vabbè Io sono innamorata Dei cosiddetti terroni Diciamo Però Si vede anche dal cuore Dalle anime Delle persone Cioè La maggior parte Lì ha un'ospitalità Un entusiasmo Così Poi arrivi al nord E ti cadono Un attimo Ma questa cosa È proprio Relazionata Alla terra Cioè se voi guardate E questo è in tutto il mondo Venite Venite In Perù Per esempio E vedete Che la gente Che sta nella selva Che è corrispondente Ai terroni Che siamo noi Io sono terroni Alla gente Del sud Comunque Del Mediterraneo Perché non è solamente Una questione D'Italia Che potremmo dire Gente della costa Ma è un pochino diverso È proprio È parallelo Alla gente Della selva peruviana O Della selva colombiana O Della selva in generale Che è della giungla Vedete Che questa gente È molto aperta Molto amorevole E Molto sorridente E Hanno anche Delle particolarità Tipo Negative Per esempio Non hanno Gran voglia Di lavorare Molto difficile Fargli capire Il concetto Del lavoro Il concetto Del guadagno Del fatto Di poter Crescere Nel lavoro Sono cose Che non capiscono Ma non capiscono Non perché Non ce la fanno No È proprio Una questione Legata Non tanto Culturale È una questione Legata alla terra Se io sono abituata A fare così E mi cade Un mango in mano Ma per quale motivo Mi devo impegnare Andare a lavorare Se sono in amaca E mi posso mangiare La banana Che sta lì E con quello Sono pieno Per quale motivo Devo andare a lavorare Capito Adesso questa è Chiaramente un'esagerazione Allo stesso modo Se voi venite Sempre nella parte Della serra Che è la parte Montagnosa Così come Nel nord Italia È la parte più montagnosa Ma anche Le zone centrali Diciamo D'Italia Che sono Dove c'è l'Appennino Vedete che c'è Un cambiamento Nella gente La gente è più chiusa Ma perché Provate voi A lavorare E poi Non farvi marcire O non farvi Come dire Non farvi ghiacciare Le povere cose Che coltivate O gli animali Che in qualche modo Cercate di conservare Sotto sale È molto più difficile È molto più difficile Quindi la gente Diciamo È più chiusa Anche come Tipo di atteggiamento Dell'anima Perché è più Deve guadagnarsi La vita In una situazione Ostile Come può essere Quella della montagna Da certi punti di vista Quindi vediamo Che la terra Ha un'influenza Molto forte E poi ci sono Posti diversi Tipo se siamo In una terra Calcarea La gente Ha un determinato Stile Anche se è chiuso Però è diciamo È più Accogliente Diciamo Andate su una montagna Silicica Cambia Cambiano molte cose Perché siamo Realmente Condizionati Dalla terra E da Quello che Viviamo Respiriamo C'è davvero Questa connessione Solo che Il più delle volte Non ci facciamo Molto caso Ok Io vedo Che la gente Ci sta lasciando E giustamente Vuole Immagino Che sia molto Tarli per voi Qua sono le 4.40 Voi avete Che orario? Qua siamo Le 11.20 Ok Sono molte persone Che hanno già lasciato Probabilmente Per Stanchese Eccetera Va beh Comunque Mi ringrazio Come sempre Devo Cercare Di Approfondire Troppo Amplia Io spero Che la parte Diciamo Che abbiamo Fatto Oggi Sia Abbastanza Chiara Sono Cose Che comunque Trovate Nei due test Che avevo Consigliato Per la Preparazione E Ci sono Altre Conferenze Alla quale Appunto Vi darò Riferimento Nell'email E la prossima Volta Entreremo Un pochino Più Nel particolare In quello Che è L'atmosfera Di Natale Quindi Le 13 Di Notiz Sante In un certo Senso Ok